Ciao Luigi, un saluto agli ospiti. Ciao Luigi, ciao. Io volevo dire una cosa, io vedo delle analogie di questo campionato con quello quando fu cacciato Materazzi che poi subentrò Antonio Conte e proprio subentrò prima di Natale quando ci fu quella bella sconfitta in casa con il Lecce. Allora chiedo a lui, nella malaugurata ipotesi, perché io penso che noi domenica col Palermo non credo che vinciamo, ma dovessimo perdere a Lecce e poi anche se normalmente loro come si comporterebbero. e poi per quanto riguarda l'aspetto che diceva prima il collega giornalista vostro, il Bari come lo vede giocare? Dove vede il Bari ancora avere un'identità di gioco? Non è assolutamente una squadra che non ha un'identità di gioco, oramai non ce l'ha più l'identità di gioco, proprio a parte l'assenza e tutto quello che vogliamo. Quindi non vedo assolutamente una squadra in cui oramai purtroppo l'allenatore, a mio avviso, non è più seguita e non so per quale motivo e certamente non lo potremo sapere. Grazie per il tuo intervento. Allora io spero proprio che non vada come dici tu, perché perdere col Palermo, oramai queste partite sono quasi tutte partite estremamente importanti, non dico partite della vita ma quasi. Se perdiamo col Palermo arriviamo già a Lecce in una condizione molto difficile, se perdiamo col Lecce cominciamo a parlare di posizione tragica. Quindi io perciò prima volevo fare un appello a tutti di stare tutti uniti. Bari-Palermo, noi faremo il nostro, siamo sicuri che la curva si riempie, ma anche il resto dello stadio. Io spero veramente, se si potesse fare anche un'operazione di marketing e invitare le persone allo stadio, non so in che modo, ora io tecnicamente non sappiamo neanche se si è in tempo per farlo, ma veramente in questo momento Bari-Palermo ci vuole l'aiuto di tutti, il supporto di tutti, perché i ragazzi che sono in campo, quelli sono. Fino a gennaio non può venire nessuno, e sono sicuro, ripeto che verrà qualcuno, ma fino a gennaio non può venire nessuno, quindi stringiamoci noi attorno. Noi dobbiamo fare il nostro, facciamo il massimo, quello che possiamo fare. Andiamo allo stadio, tifiamo tutti quanti insieme, fino al novantesimo, perché tanto finché non arrivi il mercato di preparazione non si può fare niente. Io chiedo a tutti quanti uno sforzo, facciamo noi lo sforzo per primi. Dimostriamo noi cosa sappiamo fare. Non creiamo alibi a nessuno, anzi avremo tutte le ragioni nella maragorata ipotesi, come dice lo spettatore che è chiamato ora, che perdiamo, perdiamo e perdiamo, perché noi arriviamo a fine gennaio, che se perdiamo sempre può venire anche Messi, non ti salva nessuno, come diceva Francesco. No, ma anche Batman e Robin non bastano. No, ma anche Batman e Robin, non ti salva nessuno. Quindi voglio dire, attenzione, non facciamo catastrofismi, siamo vigili, ma stiamo attorno alla squadra, stiamo insieme alla squadra, facciamo il tipo per la squadra, facciamo sentire, anche in questi giorni che ci vedremo in piazza San Bernardino, stiamo attorno alla squadra, facciamo sentire il nostro calore, veramente, è importantissimo. Fermati un attimo Alberto, perché c'è la pausa pubblicitaria, poi di nuovo insieme abbiamo anche un'intervista a Zemana, fra poco. Allora, fra le varie voci di mercato, tutto sport oggi ipotizza uno scambio Cerci-Alvarez, Alvarez piaceva già la scorsa estate alla Fiorentina, staremo a vedere. 080-501-9998, non era la stessa spesa su una cosa, il fatto che il Bayern non abbia un'identità di gioco, Francesco, il nostro amico da casa ha detto che non ha più identità di gioco. ha ancora un assetto, pensa ancora in un certo modo. Che poi gli interpreti non siano quelli abituali, è evidente che questo rende tutto diverso. È un po' come l'opera lirica, se tu hai i Pavarotti, la Ricciarelli in gran spolvero, è chiaro che viene tutto in un certo modo. Se non ce li hai, ti adatti con quello che hai e fa un effetto diverso. però mi permetto di contestare quello che ha detto il telespettatore che ha chiamato per ultimo, la squadra ce l'ha ancora un'identità, basta guardare come sta in campo dietro, come sta in campo in mezzo e come prova a stare in campo anche davanti. Fermati un'altra, Francesco, perché ci sono due cose molto interessanti che riguardano gli Ultras, uno, come vi state preparando per la trasferta di Lecce e due, è vero che avete respinto a Genova i giocatori sotto la curva? La trasferta di Lecce, le trasferze ne erano evitate tante quest'anno, sicuramente non ci potranno evitare quella di Lecce, lo spero proprio, perché fermare due, tre mila, quattro mila persone che vogliono andare a Lecce anche perché è vicino e anche perché la partita è molto importante, è importantissima, è importantissima la nostra presenza sugli spalti, quindi sicuramente ci organizzeremo come al solito con un autoraduno, faremo mettere i biglietti in vendita il prima possibile, sì da andare tutti quanti con il documento e il biglietto in mano e da non creare alcun tipo di problema come è successo magari negli scorsi anni, andare ordinati, andare a fare il nostro tifo, a sostenere la nostra squadra, la partita è troppo importante, non credo che ce la potranno vietare. Quanto a Donati è venuto sotto la curva e lui è venuto a chiedere scusa perché poi io l'ho incontrato, ho avuto modo di parlarci con Massimo, è venuto sotto la curva per chiedere scusa. Quando ha fatto la mossa poi di levarsi la maglietta ho detto che probabilmente non era il caso, comunque sia venivamo da una sconfitta, io capisco bene le scuse, poi noi abbiamo detto più volte veramente di non lanciare le magliette perché si creano assembramenti, si creano persone che si buttano una dosa all'altra, un po' di disordine. E comunque sia, voglio dire, non è quello il momento per lanciare la maglietta, vanno benissimo le scuse, però lanciare la maglietta ci sembra magari un po' una forzatura, comunque ho avuto modo di dirlo la sera stessa. C'è un amico in linea, pronto?